Comunione dei presenti Che cos'è l'empatia a proposito del contatto con i piani superiori di esistenza? Commento Il contatto con i piani superiori di esistenza è ancora di più il cenacolo. Negli ultimi decenni tende progressivamente ad assomigliare a un'empatia intesa come capacità di unirsi all'altro, sia esso strumento, sia esso partecipante alla seduta. I maestri immateriali spiegano così che la qualità dell'empatia è il presupposto della qualità della comunicazione con i piani di esistenza superiore. La comunione dei presenti, creata dall'empatia, anticipa l'unione con il tutto che è il vero destino di ogni essere.